Nella rosa di Mr. Lorenzetti è l'unico, assieme al Libero Depandis, ad essere nato negli anni 80. Porta dunque esperienza, fisicità con i suoi 205 centimetri e tanta voglia di vincere. Solo un club è blasonato ed ambizioso come Trento, lo ha convinto infatti a lasciare il suo Brasile, dove è nato e cresciuto, sia umanamente che palla volisticamente, il nuovo centrale della Diatek ed Air Carbonera si presenta nella sede della società di Via Trainer. Trentino Volley è una delle squadre più forti al mondo, questa è stata la vera ragione per cui l'ho scelta. Quando il mio agente mi ha detto che ero stato contattato da loro, quasi nemmeno ho ascoltato la proposta e ho detto sì praticamente mentre ancora mi stava spiegando l'offerta, perché so che è una squadra molto forte, con tanti titoli conquistati nella sua pur recente storia e spero di aiutare questo team ad arricchire ulteriormente la bacheca dei trofei quest'anno. Circondato da trofei e blasoni non nasconde la sua ambizione. Sono il più vecchio in questa squadra e sicuramente posso portare come contributo la mia esperienza in Brasile e quella internazionale grazie a quanto fatto con la nazionale brasiliana. Spero che questa mia esperienza possa aiutare la squadra a vincere più competizioni. Ad oggi quello che è il sesto giocatore brasiliano della storia di Trentino Volley ha vinto due mondiali per club, tre campionati sudamericani, sette campionati brasiliani, tre coppe del Brasile e una supercoppa. Vanta 161 presenze con la nazionale brasiliana, assieme alla quale strappò un anno fa l'oro olimpico agli azzurri e Der Carbonera vestirà la maglia numero 16.